Rifiuti vegetali mescolati con pietrisco, scarti di rizzi, plastiche e altro materiale altamente inquinante in un'area trasformata e legalmente in discarica, ben due ettori di terreno immediatamente posto sotto sequestro. E' quanto scoperto dai carabinieri della stazione di Spininga grazie alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Vibo Valencia guidata dal procuratore Camillo Falvo. La zona, situata in località Gurturella, è prospicente ad un dirupo tra due alture, a valle del quale scorre un corso d'acqua. Una posizione isolata dunque probabilmente scelta con la convinzione di agire indisturbati e sfuggire ai controlli. Le indagini hanno rivelato che l'attività illecita si protereva da tempo trasformando la zona in una vera discarica a cielo aperto, mettendo segno a un nuovo colpo contro i crimini ambientali nel territorio vibonese, con la denuncia di un uomo in stato di libertà per una presunta gestione non autorizzata di rifiuti fermato alla guida di un camione identificato dai carabinieri. Fondamentali in questa indagine i due aspetti, le segnalazioni da parte dei cittadini sempre più consapevoli e attenti alla protezione del proprio territorio e i controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valencia e dei colleghi del gruppo forestale supportati da tecnologie moderne e telecamere di sorveglianza installate nella zona.